Voglio parlarvi di come attivare i doni spirituali. Brevemente, e voglio dirvi, voglio lasciarvi cinque principi. Il primo principio che voglio lasciarvi è che i doni di Dio sono perfetti. Quindi Giacomo 1,17 dice, ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Quindi i doni di Dio vengono dall'alto, quindi se vengono dall'alto sono perfetti. Il dono di Dio è perfetto. Il dono spirituale che tu hai è perfetto, non perché tu sei perfetto, non perché tu lo meriti, ma perché Dio te l'ha dato per grazia. Amen? Punto 2. I doni spirituali non vanno trascurati, vanno alimentati e protetti. Amen? Punto 3. I doni devono essere risvegliati. Paolo dice in 2 Timoteo 1,6 Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mani. Quindi da qui comprendiamo e lo Spirito Santo ci insegna che i doni spirituali ci sono stagioni e momenti che vanno ravvivati. Amen? Ci sono stagioni nella vita di un credente o nella vita di un ministro che quei doni spirituali ricevuti nella nuova nascita vanno ravvivati. E ieri abbiamo detto e lo Spirito Santo ci ha insegnato che si ravvivano i doni attraverso l'intimità, la parola di Dio, la conferma dell'autorità e dal frutto. Se io ho dono di profeta farò frutti da profeta. Se Dio mi ha dato un dono apostolico io farò frutti di apostolato ancora prima di avere un titolo. Amen? Se io sono stato chiamato ad essere un evangelista io nella mia vita cristiana porterò frutti da evangelista. Sarò un mal di testa per la mia Chiesa. Un evangelista è un mal di testa per i pastori, i leader, la Chiesa perché l'evangelista sta sempre lì a dire dobbiamo andare fuori, 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 dobbiamo andare fuori. Che il pastore avrà due decisioni. O si convincerà di andare fuori o andrà fuori perché non lo vuole sentire più. Quindi prima o poi il risultato sarà sempre lo stesso. Andiamo fuori. Amen? Non aspirate a titoli, aspirate ad avere il fuoco dello Spirito Santo nel vostro cuore. Perché chi cambierà questa nazione non saranno i titoli ma saranno uomini e donne pieni del fuoco dello Spirito Santo. Amen? Poi se i titoli arriveranno, se Dio ti ha riservato un titolo arriverà. Amen? Ma la nostra corsa non deve essere un titolo. La nostra corsa deve essere Signore riempimi del fuoco di potenza dall'alto affinché io quando parli non siano le mie parole ma siano le tue parole affinché i peccatori siano salvati, gli infermi siano guariti, gli oppressi liberati e Gesù Cristo glorificato. Alleluia! Forza l'applauso a Cristo se lo credi! Amén? Punto 4. I doni confermano il messaggio del Vangelo. I doni spirituali confermano il messaggio del Vangelo del Signore Gesù Cristo. Amén? Amén? E io e te non dobbiamo predicare il nostro Vangelo, io e te siamo stati chiamati a predicare il Vangelo del Figlio di Dio. Amén? Chi porta gloria al nome di Gesù Cristo è il Vangelo che Cristo predicò. E io e te siamo stati chiamati a predicare questo Vangelo. Non il Vangelo della nostra cultura, non il nostro Vangelo, non i nostri pensieri, ma il suo Vangelo. Amén? Abbiamo bisogno di questo. Capire che siamo stati chiamati a predicare il Vangelo di Cristo e non il nostro Vangelo. Amén? Amén? Marco 16, 15 al 18 dice, questi segni ti accompagneranno, questi segni sono doni. Amén? E vi lascio questo, i doni spirituali sempre camminano a braccetto con l'evangelizzazione. Amén? Amén? I segni sono per conquistare anime, non per fare più gonfi credenti. I doni perfezionano i santi, ma i segni hanno un proposito ancora più alto, qual è? Guadagnare anime a Cristo. Amén? Svuotare l'inferno e riempire il cielo con l'aiuto dello Spirito Santo e la predicazione del Vangelo. Forte l'applauso a Cristo! Alleluia! Alleluia! Amén? E concludo dicendo, Dio non sta cercando scienziati. Amén? Dio non sta cercando quelli che sanno tutto. Sapete Dio che cosa sta cercando? Cuori disponibili. Dio non cerca scienziati, Dio cerca cuori disposti. Amén? Cioè, letteralmente, Gesù prese dodici persone impresentabili. Cioè, erano proprio impresentabili umanamente parlando. Però avevano qualcosa che li differenziava da altri. Un cuore disposto. che non si faccia la mia volontà, ma sia fatta la tua volontà. Amén? E quando Gesù trova un cuore così, è lì dove dice, io in quel cuore glorificherò il nome di mio figlio e farò grandi cose. Amén? Vuoi avere un cuore così? Ultimo punto. I doni spirituali si ricevono e si attivano per fede. A volte le cose più semplici sono le più potenti. Perché uno si scervella, si sforza, fa tante cose. Noi non siamo stati chiamati a sforzarci. Noi siamo stati chiamati a credere. I doni spirituali si attivano per fede. In poche parole, te lo devi credere. Devi credere che Dio ti ha dato un dono spirituale. devi credere che Dio attraverso di te vuole guarire infermi, liberare oppressi, salvare anime e glorificare Gesù Cristo nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo quartiere e nella tua città. Forte l'applauso a Cristo! Alleluia! Alleluia! Perché? Perché se non te lo credi, se non te lo credi, può predicare Gesù stesso. Non funziona. Gesù un giorno stava insegnando e la casa era piena. La Bibbia narra che quando arrivarono quattro uomini che portavano su un letto un paralitico, quattro uomini che se lo credevano che quel Gesù che stava lì poteva guarirlo, quando loro arrivano nella scena Gesù inizia a fare miracoli. Cosa ci insegna lo Spirito Santo? Che Gesù può stare in un luogo e tu non puoi ricevere nulla. perché Gesù in questa storia era lì. La casa era piena. Ma i miracoli si attivarono quando entrarono in azione gente che se lo credeva. Gente di fede. Amen! Io credo che quell'uomo che si chiama Gesù può guarire quest'uomo e può darci una nuova vita a noi. Ora con i doni spirituali succede lo stesso. Te lo devi credere. Devi credere che tu hai un dono spirituale. O forse ne hai di più. Nella tua intimità con lo Spirito Santo lo scoprirai. Signore grazie perché per fede queste mie mani vedranno infermi guarire nel nome di Gesù. Signore grazie perché per fede questa mia bocca vedrà anime salvate nel nome di Gesù Cristo. Perché tu hai messo i doni spirituali in me. Perché questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel mio nome cacceranno demoni. Nel mio nome predicheranno il Vangelo. Nel mio nome guariranno gli infermi. Nel mio nome pregheranno e saranno battezzati nello Spirito Santo. Quindi per muoverci nei doni necessitiamo fede. Amen. Quindi devi imparare ad agire in fede. Quando farai questo i doni segni ti seguiranno. a